...e che abbiamo la certezza della sua miseria. Avendo un dono, un suo figlio, un suo figlio, che è la risoluzione di vita, sappiamo che dopo la morte ci ostende la certezza e saremo così più gioia alla sua presenza. Misericord esticultate, misericord esticultate, misericord esticultate. Misericord esticultate. Grazie a tutti. 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 E poi veniamo a messa, a fare di cosa? A prenderci in giro? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.